oh come ben 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 oh ho buttato giù due persone con le palle vorrei ah è capito che la brenno dietro 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 non c'è non c'è secondo solo cosa dove non ha capito che c'è una porta si è aperta una porta ah cazzo ce l'hanno fottuto andato vedo un po' ecco accogliano ho 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 no me ho ho mi ha ho vieto questa porta la porta l'ultima quando primo c'è delle chiavi la da prendere ragà non c'ho capito un cazzo per la stare tra ieri è stato bellissimo uovina dopo apprenda cazzo di gioco ma che cazzo vabbè no quindi dobbiamo andare sotto no no c'è una chiave c'è una chiave no c'è una chiave dietro 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 montaggio 2 atta uovina li fa prende si si l'ho preso no a me non mi li fa prende ah perchè ce l'ho vendi ma perchè ma sta chiave dobbiamo prendere sta chiave no dobbiamo scendere giù dobbiamo scendere giù amico a terra cerca gli aseri sulla mappa d'assistica vabbè vende tu cazzo dobbiamo scendere giù secondo me ragazzi e scendiamo scendiamo fanno un po' di armi che cazzo andremo dentro e ma ce l'abbiamo andata altrimenti cazzo occhio sinistro occhio sinistro eh non me la fa prenda c'è che soppie andate via andate via lasciatemi morire in pace porca puttana ma che cazzo è successo sono morto al gas cazza roba ti lascio avvicinare una nuova che corre troppo ragazzi no 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 vedi via vediamo capisce un cazzo comunque ragazzi no 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 però è bello che non capisco giù un cazzo io vado a versi il lancio non ho capito una cosa se non prendi la porta non puoi andare nella mappa boh si no quella lì è un'altra cosa beh quello lo dobbiamo rendere e lo dobbiamo scendere ragazzi il lancio è pieno ma è pieno il lancio è pieno il lancio marca si sede amo ah si si so tutto la marca dei suoi compagni l'ho buttato a terra l'ho lasciato giù occhio bombardo ma vediamo diventa le nuove piv oi spara 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 cazz m'ha fatta la fine c'è il suo mannano no no voglio il lancio però cazzo fermate il gas ammazzate qualcuno no mi lascia in mare mamma lopera dove l'hai preso sto bomba ma donna santissima ma donna santissima bravo lupena è cretino è cretino sono il re dell'acqua cretino arrivo al lodi questo c'è alemoni ottimo oh sono caduto giù ce l'ha non puoi prenderlo peccatissimo vabbè io non lo posso prendere stai arrivando in città stai c'è di chito è morto e andiamo qua dentro a prendere una maschera a prendere la maschera non ce la faccio non ce la faccio no c'è uno c'è uno ma è dove? è vicino allo shop qua occhio guardami ci interessa occhio uno di fronte uno qua uno di fronte aspetta fammi chiedere se c'è le armi da dietro ma nel gas però dai ma dai dietro dietro raga girate nel gas sta merda eh vabbè ve l'ho detto dietro l'albero perfetto stavo senza armi stavo no io le armi ce le avevo ma l'ho persa oh beh ci sono armi si si c'è c'è cazzo scendo scurri però eh credo che la torta sia scongiata comunque hai ragione chiodo va schifo questa bomba che ho fatto sii che hai sparato quattro colpi proprio me lo devo modificare tra l'altro mi sembra cambiata anche la mappa o no si io qua non ci sono mai stato ah no è quella di è più grande sulle più estese ok ok c'è c'è chi no c'è c'è chi no ok di dentro guardate le capriole guardate le capriole bello capriole solo una volta mi ha beccato grandissimo ma tu oh chiudi la porta eh cazzo è uscita ma dai non ti cazzo questo gas verrà andare 3 ragazzi sono da un bastardo di cecchino alla o cazzo siamo ingastrati ma lupin come ci lascia via sempre dio fa no io scappo come una lepre mi chiamano la lepre mamma oh la morte da accanto cerca gli altri sulla mappa tattica ragazzi ci stiamo incasinando mamma mia ragazzi bisogna di moni di assalto nooo l'arma arma un colpo solo mi sono fatto ma che coi c'è l'arma un colpo ma non le prende avevo trovato l'arma un colpo come un coglione non lo sapevo veloce veloce cazzo madonna stava camperato camperato stava traverso capo shoot ragazzi datevi una botta se riuscite raga mi date una botta sono safe aspetta no moriamo 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 siamo tutte e due no moriamo tutte e due sì 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 vedete sono anche mai così lontano cazzo ah ho morto da me la porta ora a mese è uscita riprenditi a non vicino vicini a dire ieri e di me aiaiaia sto morendo un grande la sera e roba il mio 14 metrò acqua amorevole dame un po' lasciamelo muo ben giri ottima servono per non per adesso occhio dietro paceo e servono armi sta qui dentro ho fatto uno ho fatto due ok ok ho chiesione confermata sappiamo dove sono gli altri ho fatto tre morto mamma mia l'ho lanciato steve io 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 l'ho trovato culo no io voglio bene adesso un secondo che mi sia svegliato il bambino arrivo l'interno io l'ho neanche dove mi trovo come ti faccio arresto mi sa il bersaglio taglio è sparito contratto terminato l'ho un certo mamma mia non si ferma più sto gas mamma mia che cazzo è fai mamma mia che cazzo è fai non finisce più sono l'arena sinistra mamma mia forza di fronte cazzo ragazzi qualcuna colpi ditemi che avete colpi io 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 tieni tieni butta 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 ande di piastre che avete oh sta qua sta qua ti è di quale astra faccia a sinistra adesso 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 grande ben g1 e baggine dovremmo restare ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho che vale dai ci sei vai ci sei c'è nato resto vai 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 va vai 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 ma mi sa che qua è finito comunque raga non finisce mai eh va mi né aspetta che ve ripingo otto otto tre squadre dai 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 dall'alto non li credo quattro siamo noi due 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 vedo due 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 mando ok in acqua potrebbero essere ora ma la corrente è in acqua non li vedo non ci arricchia di palle o lì dentro il treno sono in un treno ah perché il gas fa col treno è vero and the same maschera ma io ciò vedete che ci sono morte sì sì perché il gas seguo il 3 ho fatto sono avanti gli altri eh minchione io che mi faccio i biglietti va via braccato fatto con il cecchino fatto bellissima raga confermatelo ok vittoria ma l'avete visto la cecchina ma l'avete visto la cecchina bravissima la cecchina che vittoria abbiamo fatto un botto di killer io ho visto quello all'angolo che l'ho dato immagino com'è stato bello prima vittoria sta cosa dai dai io ho visto quanto è stato bello mandare i droni piccolini finchia 47 killer in 3 in totale minchia aaaah no questa è da foto aspa l'abbiamo l'abbiamo sopraate ragazzi io vi dico l'ultima col cecchino ho visto un pedo della testa un capello sparato l'ho preso io quando fuggio la pompa che non che il mio fuggio la pompa non prende neanche le farfalle ma me non mi fa vedere però come le fa vedere le killer non me le fa vedere ah questo è stato l'abbiamo sopra l'abbiamo sopra l'abbiamo sopra l'abbiamo sopra